Bentornati, abbiamo la conferma, adesso è ufficiale, l'europeo non si giocherà, la UEFA usa la testa, il buon senso e rimanda tutto al prossimo anno, quindi sarà Euro 2021 la competizione. Una scelta inevitabile perché si sono resi conto di non poter permettere il transito, a parte il fatto che adesso sono chiuse tutte le frontiere, quindi anche la mobilità potrebbe essere complicata a quel punto, ma naturalmente ci auguriamo tutti che a giugno non ci sia più questa situazione, poi è da capire da un punto di vista politico che cosa succederà, visto che, ripeto, la situazione adesso è di frontiere chiuse e chissà che qualcuno non ne approfitti per tenerle anche dopo, lo faremo a vedere. In ogni caso, ufficiale è questo, ufficiale è anche la Coppa America, quindi anche quella si farà il prossimo anno e questo è bene. Quello che invece è ancora da decidere sono le Coppe Europee, quindi il destino Europa League e Champions League, perché non si è ancora deciso ufficialmente, si è parlato della possibilità di giocare il torneo riprendendolo a fine maggio e quindi poi farlo finire a fine giugno, ma io personalmente l'idea che ho è che non tornerà in campo nessuno per questa stagione, perché facendo una riflessione proprio così, è proprio dall'ultimo uomo della strada, se in Italia siamo in questa situazione, non abbiamo ancora raggiunto il piccolo, quello che dicono, e gli altri paesi sono dietro a noi per contagi, o almeno sono dietro a noi per verifiche, per tamponi e quant'altro, quando anche gli altri scopriranno di essere nella nostra situazione, voglio proprio vedere come potranno pensare anche loro di riprendere a giocare, perché poi riprendere a giocare, come ho già detto, vuol dire anche la preparazione, vuol dire rimettere in moto tutto, non è semplicemente riprendiamo a giocare e ci troviamo domenica e facciamo la partita, cioè sono squadre professionistiche che hanno bisogno dei tempi per rimettersi in moto. Oltre a questo c'è una valanga di giocatori col coronavirus, quindi anche loro dovranno poi guarire, dovranno uscire da un percorso e quanti ne verranno fuori? Guardate il Valencia, Valencia è in mezza squadra col coronavirus e hanno affrontato l'Atalanta, fra l'altro 15 giorni fa, per cui anche lì poi verrà fuori anche loro, perché è inevitabile che anche la squadra di Bergamo si sia presa questa porcheria, e quindi veramente, siccome maggio poi è dietro l'angolo, perché il tempo qui passa veloce e le settimane corrono, ripeto, non capisco come possano pensare di riprendere a giocare a fine maggio. Tra l'altro il tutto rende ancora più assurda l'idea della FIGC, che ancora non sa che cosa fare, non sa se si potrà riprendere, il limite è 9 maggio, perché se no, no, secondo me è tutto finito, è tutto finito. Ripeto, come fai a pensare che al 9 maggio si possa tornare in campo? Come fai a pensare? Io non lo so, veramente. Per poi finire la stagione a fine giugno, per arrivare proprio all'ultimo secondo, perché poi dopo il 30 giugno scadono i contratti, c'è tutto quel casino, allora io dico, soluzione di buon senso, pensa a trovare la quadra per quel che riguarda retrocessioni e promozioni, senza andare a farmi campionati a 22 squadre, perché lasciamo perdere queste follie, ci mancherebbe solo una serie A a 22 squadre per giocare 300 partite e metà inutili. Facciamo che troviamo una soluzione per le squadre che stavano venendo su dalla serie B e quelle che stanno andando giù dalla serie A e poi dalla C alla B, eccetera, insomma, trova il modo di, non lo so, mettiti d'accordo, fai qualcosa, vedi se magari a giugno potrai fare dei playoff, magari due partite invece di, no, come i playoff di serie B che giocano anche di 20 partite, una roba così, quindi fai questa cosa qui e trova una soluzione. Il resto lo metti da parte, lo scudetto non lo assegni, le posizioni UEFA e Champions League, prendi quelle che ci sono e basta, e basta. Cioè questo è, questo è, poi dopo il grosso problema sarà naturalmente il lato economico, perché i diritti TV, le sponsorizzazioni, tutte queste cose qui rischiano davvero di essere, di creare un patatrack nelle squadre di calcio. o tra l'altro c'era un articolo che ho letto ieri, relativo proprio a quello che vi dicevo l'altro giorno, cioè il fatto che dietro agli 11 che vediamo scendere in campo c'è un movimento di persone che lavorano e che sono dei lavoratori normali come tutti noi e che quindi rischiano il posto se le cose dovessero andare molto, molto male, speriamo di no, ovviamente. E questo è quanto, credo che, credo che già secondo me sarà difficile far finire la Champions League e l'Europa League, infatti questa è solo un'idea, non è che è definitiva, l'intenzione di far giocare a fine giugno le finali, perché secondo me non ci saranno i tempi, non si potrà riprendere a giocare in queste condizioni, è impensabile. E' stessa cosa il campionato, quindi ripeto, io spero che prevalga buon senso, cosa che in Italia non succede quasi mai, quindi la mia è proprio così, una vana speranza che lancio a voi amici, ma non ci credo molto nemmeno io, ma in ogni caso, ripeto, le settimane corrono, i tempi corrono, gli altri paesi sono più indietro rispetto a noi sulla valutazione e sul conteggio degli infetti, per cui anche loro, come puoi pensare in Inghilterra, di riprendere il campionato, infatti gli altri paesi stanno già pensando di chiudere definitivamente le stagioni e stanno cercando di trovare una soluzione in quel senso, invece a noi si continua a parlare, noi continuiamo a chiedere la gravina dei play-off, lui continua a dire che non vuole farli, eccetera. Adesso non è che voglio dare sempre contro le nostre istituzioni calcistiche, però ragazzi miei, sono settimane già che vanno avanti a dire, ma non lo so come, si potrebbe riprendere, però qua non c'è niente a riprendere, perché il paese fermo completamente sotto tutti i punti di vista lo è e lo sarà anche dal punto di vista sportivo, quindi questo è quanto. Vabbè, ragazzi, passate una buona serata nel migliore dei modi possibili e ci sentiamo domani, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e alla prossima.